L'obbligo vaccinale di queste ore ha preoccupato fortemente diversi comparti, oggi parliamo con il vice sindaco della città Giacomo Moscarola, con delega anche alla polizia municipale, insomma ci sono un po' di defezioni così? Sì, al momento non abbiamo ancora numeri certi perché l'obbligo vaccinale per le forze dell'ordine entra in vigore il 15, ovvero ieri, però ci sono 5 giorni per potersi adeguare, al momento noi in via prudenziale sappiamo di 7-8 persone che non hanno ancora adempiuto al vaccino e quindi al momento dovranno essere sospese, quello che cerchiamo di garantire, anzi riusciremo sicuramente a garantire i servizi cercando di far fare magari qualche straordinario in più agli agenti che rimangono, perché comunque i servizi della polizia locale devono essere garantiti sempre. Allora stiamo parlando di un numero importante perché su 30 agenti totali in forza 7-8 è davvero una bella percentuale. Sì è quasi il 25%, mi auguro che alcuni di questi adempiano all'obbligo vaccinale per queste categorie e quindi facciano il vaccino il prima possibile perché comunque i cittadini, l'amministrazione, il comune, tutto ha necessità della loro forza lavoro per tutti gli obblighi che la polizia locale ha nel controllo dei green pass, negli incidenti e in tutte le cose che svolgono normalmente.